Di Pasquale, operazione Chiarezza di Forza Italia sullo SPAZ, voi non siete assolutamente contrari a questi centri aggregativi? Assolutamente no, noi siamo a favore di qualsiasi azione amministrativa e non amministrativa ma associativa di qualsiasi associazione che voglia, anche perché le associazioni vivono nella città, la rinviviscono, gli danno motivo e ragione di essere. Quindi siamo assolutamente pro a qualsiasi associazione, solo che effettivamente ci siamo ritrovati e anche un po' dispiaciuti di questa manifestazione dei ragazzi dello SPAZ contro la nostra amministrazione, che in realtà eredita dal passato una situazione che ci fa capire che l'allora amministrazione Alessandrini non abbia creduto fino in fondo che lo SPAZ, che Villa Fabio potesse essere occupato dallo SPAZ. Volevamo far notare questo perché i ragazzi forse pensano che noi non li vogliamo là, in realtà non ce la voleva l'aggiunta Alessandrini. Sulla questione SPAZ, Forza Italia e i consiglieri comunali di Pescara vogliono fare chiarezza e specificare anche quello che è stato leader, ma quello che è stato in passato per lo SPAZ di Pescara quando c'era l'amministrazione Alessandrini? Sì, come abbiamo già detto in altre sedi, noi essendo neoconsiglieri eletti e quindi non conoscendo la storia e la genesi di tutta questa situazione abbiamo fatto giustamente una ricerca dettagliata dei documenti che hanno portato alla concessione degli spazi attualmente utilizzati dall'associazione dello SPAZ. L'intento e ciò che volevamo noi precisare come Forza Italia è che noi come gruppo consigliare non siamo assolutamente contrari a destinare spazi ed immobili ad associazioni culturali, ad associazioni che svolgono attività aggregativa, ricreativa e culturale all'interno della città di Pescara. Giustamente riteniamo che la concessione degli spazi e degli immobili debba essere fatta rispettando tutte quante le regole imposte dal Comune e dalle leggi e quindi noi faremo di tutto per individuare spazi da destinare a tutte le associazioni meritevoli e questo è un nostro intendo che porteremo avanti in tutti questi anni di consigliatura.